Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine, solito, classico, usuale, consueto della mia libreria, da me e da questo fascicolo dell'opera Mezzi corazzati e blindati, edita da Curcio Editore alla fine degli anni settanta e curata da uno dei massimi esperti in materia qua in Italia, ovvero sia Nicola Pignato, una garanzia assoluta di competenza in materia di Mezzi corazzati. Ripeto qua in Italia, Nicola Pignato è stato indubbiamente uno dei più grandi esperti in materia che abbia mai scritto a proposito dei Mezzi corazzati qui in Italia. Allora, sfrutto quest'opera per parlarvi di un mezzo che qua in Italia conosciamo abbastanza bene, ovvero sia il carro leggero modello 1935R, un carro leggero francese, la cui costruzione iniziò nel 1935, un mezzo della classe delle 10 tonnellate circa, pesava 9 tonnellate, un mezzo biposto armato con un cannone da 37 mm e una mitragliatrice da 7,5 con 2250 colpi. Un mezzo che noi conosciamo molto bene perché dopo la fine della Francia di Vichy, dopo che la Francia di Vichy fu, come dire, smantellata, i tedeschi ce ne affidarono un numero sufficiente ad equipaggiare un paio di battaglioni che combatterono in Sicilia e che furono protagonisti del disperato e famoso contrattacco della divisione Livorno sulle spiagge di Gela. Il famoso contrattacco che secondo qualche fenomeno paranormale avrebbe dovuto rispedire gli Yankees sulle navi. Insomma, signori, siamo sinceri. Il Renault M1935 era oggettivamente un buon mezzo esplorante, un carro leggero, ripeto, della classe delle 10 tonnellate, molto agile, molto ben fatto, molto ben costruito, affidabile, efficiente, era propulso da un motore a benzina da 80 cavalli che garantiva, come dire, una certa mobilità. Ripeto, un mezzo così piccolo, 10 tonnellate, un ottimo mezzo esplorante. Sicuramente impiegarlo nel 1943, come facemmo noi, come carro di rottura per cercare di effettuare un contrattacco sulle spiagge di sbarco, la dice lunga veramente su come eravamo messi. Il 1935 fece una guerra, fece la sua parte durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante la campagna di Francia si dimostrò, nelle poche occasioni in cui poter combattere adeguatamente, si dimostrò all'altezza dei Panzer II e III. Era, ripeto, soltanto un carro armato leggero, soltanto un mezzo esplorante, però, diciamo, come faceva il suo dovere contro mezzi suoi pari classe, anche se era penalizzato dall'impostazione biposto con il comandante del carro che doveva comandare il carro, mirare, sparare, caricare e fare tutte le funzioni. Quindi, oggettivamente, il difetto tipico di tutti i carriarmati francesi che vedevano il capocarro, il comandante del carro, oberato da funzioni che non riusciva a fare sufficientemente bene. Il 1935 combatté anche in Russia. Fino a tutto il 1942 svolse servizio di prima linea con la Wehrmacht in Russia. Poi, diciamo che fu cessata la produzione del 1935 vero e proprio per iniziare ad usare lo scafo come base per altri mezzi, come per mezzi da trasporto, per mezzi logistici, per carri recupero, per mezzi di trasporto truppe e soprattutto come semovente. Ne venne ricavato un buon semovente da 47 mm. Il veicolo era caratteristico, come quasi tutti gli altri carri francesi dell'epoca, per la sua corazzatura ricavata per fusione e per la cupola emisferica che sovrastava la torretta. Si vede niente bulloni, niente chiodi, una fusione in pezzo unico, in un'unica colata d'acciaio ed ecco qua lo scafo dell'M35. Una buona idea, soluzioni costruttive razionali, un buon mezzo che, come dire, fu travolto nel 1940 perché oggettivamente impiegato male, perché ricordiamoci che i francesi fecero l'enorme cavolata di voler affrontare i tedeschi con i carri scaglionati a piccoli gruppi o addirittura isolati. Un plotone qui, un battaglione là, un carro isolato da un'altra parte ancora. Logicamente i tedeschi non chiedevano di meglio, logicamente i tedeschi gli giravano attorno e ciao core. Ricordiamoci una cosa soprattutto però, durante la campagna di Francia del 1940, la Panzerwaffe ebbe anche, quello che si dice, alcune clamorose botte di culo. Una bella fortuna ebbe. E dovuta anche e soprattutto, ripeto, allo scarso addestramento dei carristi francesi, alle errate tattiche di impiego dei carri francesi che per certi versi erano superiori ai carri tedeschi. Ricordiamoci che lo Char B1, il famoso carro pesante di cui vi ho parlato in un'altra occasione, eccolo qua se ve lo ricordate, questo qui, cioè lo Char B1 era in grado di fregare qualsiasi cosa avessero in campo i tedeschi, sia col 75 mm montato in casa matta, sia col 47 mm montato in torretta. Ma, ripeto, se tu utilizzi i carri a piccoli gruppi o addirittura isolati, invece che, come dire, in massa, come facevano i tedeschi, c'era ben poco da fare. Si tratta di un errore capitale gravissimo che fu ripetuto da noi durante l'operazione Compass, perché, ricordiamoci, durante l'operazione Compass in Libia l'Italia aveva una forte superiorità anche di mezzi corazzati, anche di carri armati. Ma Graziani, nonostante le proteste del generale Valentino Babini, si ostinò, innanzitutto, a concentrare nelle retrovie tutti i camion e tutti i mezzi meccanizzati e motorizzati del reggio esercito, lasciando in prima linea soltanto i trattori per l'artiglieria. E poi smembrò, letteralmente, pezzo per pezzo, la brigata corazzata del generale Babini, impiegando i suoi carri M, ora qui, ora là, frammentando nelle forze, mentre Babini supplicava di poter agire, come dire, in massa, di usare i suoi carri in massa. Quando lo poteva fare era ormai troppo tardi e a Bedafone, ahimè, era decisamente, come dire, troppo tardi, demofilo da torcere, ma oramai la catastrofe di Compass era quasi completa. Ripeto, il 35R combatté con le insegne tedesche anche in Russia, fu costruito fino al 1942 in circa 1.100 esemplari e fu affidato al reggio esercito alla fine, diciamo, del 42, quando venne, come dire, quando la Repubblica, insomma, quando la Francia di Vichy fu, come dire, smantellata, tra virgolette, ce ne arrivarono sufficienti per, ce ne arrivò un numero sufficiente per equipaggiare un paio di battaglioni con i quali, con questi carri francesi di Predabellica, con i quali la divisione Livorno lanciò il suo famoso, disperato, eroico e celebrato contrattacco. Contrattacco che però poteva fare ben poco. Perché? Ripeto, due battaglioni di R35 potevano fare decisamente poco. Avanzarono con coraggio, avanzarono con determinazione, ma cosa potevano fare? I Rangers, che al momento, i Rangers americani che al momento non avevano l'appoggio dei loro carri armati, si ritirarono verso la spiaggia. Gli incrociatori USS Boys e USS Savanna avanzarono, si portarono praticamente sotto costa a rischio di arenarsi, iniziarono a martellare la Livorno e la Hermann Göring con i proiettili, con i cannoni dell'armamento principale da 152 mm e con quelli dell'armamento secondario da 122 e fecero letteralmente piazza pulita sia dei tigre della Hermann Göring che degli R35 della Livorno. Ripeto, i pochissimi R35 sopravvissuti affrontarono gli Sherman e lì non ci fu assolutamente niente da fare. che vi posso dire? Un buon mezzo, l'R35, un mezzo che fece la sua piccola parte in guerra, un mezzo che in Francia fu usato male, fu usato nella maniera giusta durante l'operazione Barbarossa anche se pativa molto le polverose pianure russe e soffriva di un gravissimo logorio meccanico, tant'è che molti R35 in dotazione alla Wehrmacht in Russia furono abbandonati dagli equipaggi per l'impossibilità di ripararli. Del resto nella strada della vittoria Overy ci spiega che gran parte a settembre, gran parte dei mezzi corazzati e dei camion e mezzi meccanici della Wehrmacht era praticamente fuori uso per la mancanza di pezzi di ricambio e soprattutto l'M35 era soltanto come dire uno delle decine e ripeto e sottolineo decine di tipi diversi di mezzi meccanici in servizio nella Wehrmacht durante Barbarossa. Ah, a proposito, se le sospensioni vi ricordano qualcosa, sì, 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 le HVSS sono ispirate, le HVSS degli Sherman Easy 8 sono ispirate da questo tipo di sospensione qua, che non è a balestre, chiaro? Vabbè, dicevo, l'R35 in Russia patì soprattutto per la mancanza di pezzi di ricambio perché pativa molto, cioè insomma come dire, la Russia era un'autentica fornace nella quale vennero bruciate gran parte delle risorse belliche della Wehrmacht. Ripeto, quando era settembre-ottobre diciamo che di tutti i mezzi meccanici dai carri armati alle moto ne era rimasto sieno un terzo e tutto il peso della logistica ormai pesava sui cavalli. Si dovettero fermare, quando ripartirono i russi si erano un po' riorganizzati e riuscirono a tener duro fino all'arrivo del generale Inverno alle porte di Mosca. Tutto qua. Insomma, signori, il modello 1935, uno dei migliori carri armati leggeri della sua epoca, un eccellente mezzo corazzato leggero degli anni 30, aveva soluzioni costruttive interessanti, ripeto, scafo costruito in fusione, un armamento che era eccellente per un carro leggero, una buona velocità, una buona autonomia, una buona maneggevolezza in fuoristrada, sospensioni interessanti che furono, come vedete, ripeto, se non vi dice nulla, ecco, come dire, l'origine, cioè persino i francesi ispirarono qualcosa agli americani. Insomma, signori, che vi posso dire? Il modello 1935, un mezzo che, ahimè, ebbe la sfortuna di essere fabbricato in Francia. Probabilmente migliore del Panzer I, alla pari forse del Panzer II o del Panzer 38 cecoslovacco. L'equivalente, se vogliamo, forse del BT-5 sovietico, forse, o del T-26 sovietico. Sì, diciamo anche l'equivalente, se vogliamo, del T-26 sovietico, altro mezzo di cui dovrei parlare. Ecco, questo era il T-26. Ecco, il modello 35, ripeto, avrebbe potuto essere un ottimo mezzo esplorante, ma fu impiegato spesso e volentieri male. Tutto qua. Insomma, signori, come sempre, adesso tocca a voi. Qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua, 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 qua. Commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video e, soprattutto, ciao!